Buon pomeriggio, buon pomeriggio a voi. Allora, prima di così aggiornarvi per quanto riguarda il momento che stiamo vivendo tutti quanti assieme nel nostro paese e non solo, giusto una puntualizzazione su alcuni interventi fatti da persone che non la pensano esattamente come noi e questo ci sta specialmente quando magari i toni sono corretti, un po' meno quando i toni sono scorretti e quando ad esempio qualcuno definisce questo canale un canale di M solamente perché ritiene che quella che ho trasmesso ieri nel mio video fosse una fec, cioè il fatto che un uomo abbia denunciato di essere stato colpevolmente lasciato solo dalle autorità per ore e ore con in casa la propria sorella che era morta e mi ha invitato, mi ha sfidato a chiedere scusa, mi ha detto proprio, mi ha scritto voglio vedere se avrai il coraggio di ammettere che hai preso una cantonata. Chiaramente non era una cantonata perché è una notizia purtroppo dico io assolutamente vera, corrisponde esattamente alla realtà. Ecco voglio spiegarvi perché su queste cose io vado abbastanza sicuro. Per quanto riguarda la cronaca e questo è un fatto di cronaca per me esiste una sola fonte e sono i giornali nazionali. Io non so quanti di voi si ricordano dei giornali nazionali aver dato una notizia di cronaca risultata poi falsa. È praticamente quasi impossibile. Magari è possibile che un giornale attribuisca una dichiarazione piuttosto che un'altra ad un politico. Questo ci sta ma per quanto riguarda la cronaca questo è praticamente impossibile. Ecco perché siccome ero andato a vedere sull'Ansa la notizia tra l'altro riportata poi dal mattino di Napoli quindi un giornale molto importante non avevo alcun dubbio che la notizia fosse vera e quindi probabilmente al contrario è questo signore che probabilmente dovrebbe chiedere scusa al sottoscritto e a tutti noi. Comunque entriamo nella parte che maggiormente in questo momento ci coinvolge che è estremamente importante. Vi ho avuto modo di raccontare stamane che ieri sera il governo ha deciso di emanare un decreto dove in buona sostanza si dice che tutta l'Italia è zona rossa. Questa è la realtà. Però stamane c'è stato un incontro con i vertici dell'opposizione presenti appunto Matteo Salvini, Giorgia Meloni e anche il presidente di Forza Italia Tajani. Al termine di questa riunione i tre leader politici hanno incontrato i giornalisti e hanno in qualche modo sottolineato che le loro richieste non erano state prese in considerazione che per il momento non ritenevano di intervenire maggiormente perché questa era una delle richieste di intervenire maggiormente sulle zone in particolare le zone più critiche come la Lombardia e cioè quella di chiudere tutte le attività. Come d'altronde è abbastanza logico perché che senso ha lasciare aperti i negozi nel momento in cui tu chiedi ai cittadini di rimanere a casa e di uscire solamente a far la spesa e per andare a lavorare. Non ha alcun senso però il governo ha risposto che al momento non era questa la strada da perseguire che ci avrebbero pensato e la stessa cosa riguarda un po' la richiesta da parte dell'opposizione di aumentare almeno a 30 miliardi il budget per coloro che in questo momento soffrono maggiormente di questa situazione che sono quelli che lavorano a partita IVA ma non solo anche i precari e tante altre persone che rischiano magari anche di perdere il posto di lavoro. Stamane ho avuto modo di sottolineare come da questo punto di vista si dovrebbe intervenire subito e non fra qualche settimana perché l'esigenza queste persone ce l'hanno adesso. Però tornando al fatto di ulteriormente inasprire i divieti all'interno di certe zone come appunto la Lombardia che è l'epicentro della propagazione di questo virus io credo che la richiesta fosse legittima e il fatto che il governo rimandi questa cosa è sbagliata per una ragione molto semplice. Questo è un virus che abbiamo visto cammina in maniera estremamente veloce e tu non puoi aspettare di prendere le decisioni due, tre, quattro, cinque giorni perché sennò vai sempre a rincorrere una situazione. Diventa necessario per avere maggior chance di sconfiggere questo nemico anticiparlo e non sempre inseguirlo. Ecco perché la richiesta secondo me dell'opposizione è sacrosanta e legittima. Ora volevo affrontare poi un altro tema. Io ho avuto modo in queste ultime 48 ore di andare a vedere anche un po' i commenti che si fanno in Cina per quanto riguarda l'evoluzione del virus e in buona sostanza il fatto che le cose stiano migliorando perché la parabola che è finalmente discendente, i numeri ogni giorno sono più piccoli per quanto riguarda i l'ultimo dato di stamane che ieri ci sono stati solamente 40 contagiati che capito in un territorio così vasto è veramente in nulla vuol dire che finalmente in Cina la cosa è sotto controllo. Però c'è una cosa importante da sottolineare. I cinesi però stanno guardando e hanno guardato avanti. Cioè cosa vuol dire guardare avanti? A questo punto proteggersi e quindi tutti quelli che in questo momento arrivano in Cina, tra l'altro badate bene, in un territorio vastissimo, tutte le persone che arrivano da certe zone del mondo e soprattutto dell'Europa devono andare in quarantena. Voi capite che siccome bisogna essere lungimiranti di questa cosa il nostro paese dovrebbe iniziare a parlarne perché è chiaro che noi abbiamo anticipato tutto il resto d'Europa e a proposito, parentesi, ci sono ancora nazioni come l'Inghilterra che stanno sottovalutando questo problema in maniera quasi drammatica che quindi quando finalmente li colpirà, e sarà così chiaramente purtroppo, sarà ancora più difficile uscirne e quindi per noi sarà ancora più importante proteggerci. Ecco perché dovremo adottare le stesse misure che sta adottando la Cina. Esistono poi altri due tre temi che ho avuto modo di approfondire, sempre guardando alla Cina. ora, degli scienziati, quindi delle persone autorevoli, iniziano in qualche modo ad avere il dubbio per quanto riguarda, ad esempio, l'incubazione di questo virus. Perché si passa da chi ritiene che siano cinque giorni, addirittura ho visto uno studio che dice 5,2, come se appunto avessero calcolato in maniera molto preciso i giorni di incubazione. Altri, come in Italia, che parlano di 14 giorni, di due settimane. Invece ci sono alcuni studi in Cina che allargono questo periodo, portandolo addirittura oltre i 20 giorni. Non è ancora uno studio che è stato pubblicato da riviste a livello mondiale, perché sono ancora troppo pochi quelli che avanzano questo dubbio. Voi sapete che una rivista scientifica pubblica una notizia nel momento in cui, e la fa sua, nel momento in cui molti scienziati di un paese, oppure del mondo, chiaramente, sono orientati sulla stessa linea. Però il fatto che se ne stia parlando, che si discute, è un fatto che va tenuto presente, così come il fatto che probabilmente un metro di distanza è poco, perché qualcuno dice che probabilmente la distanza dovrebbe essere anche maggiore. Ora, l'ultima cosa della quale vi volevo parlare è quello degli aiuti. Ho già accennato il fatto che gli aiuti devono venire in modo solleciti. Ora, il grande problema che abbiamo nel nostro paese non è solo il fatto di avere la volontà di stanziare dei fondi, e io mi auguro vivamente, anche con la spinta dell'opposizione, si arrivi a stanziare almeno, come cifra di partenza, 30 miliardi. Ma è la burocrazia che mette in pericolo il fatto che questi soldi arrivino nell'immediato agli italiani. Questa è la mia grande preoccupazione. Ecco perché diventa assolutamente fondamentale avere un commissario proprio preposto a queste cose. Magari addirittura due commissari, uno che riguarda gli aspetti sanitari e l'altro gli aspetti economici. Un commissario che faccia in modo di eludere tutta la burocrazia e che aiuti affinché queste persone vengano aiutate nell'immediato. Questa è una cosa estremamente importante perché vi assicuro ci sono già tantissime persone che vivono ed è estremamente comprensibile questa situazione con grande grande angoscia, ancor più che la preoccupazione da un punto di vista sanitario. Aiutiamo veramente queste persone. Con questo io vi saluto, vi ricordo sempre di iscrivervi al mio canale e ci vediamo domani.